Dai, 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 che vai! Quasi viene via tutto, eh! Paolo! Sta andando in là tutto, eh! Sta andando in là tutto, piano piano! E cambia posizione, devi andare giù, devi andare giù. Bravo, un po' più in giù! Bravo, Sergio! Devi andare giù a sinistra. A sinistra devi stare, Paolo, col mezzo. Ok, vai, vai! Dai che vai! No, no, ma sta andando, eh! Sta uscendo fuori... Pesce fuori da qua. Vai, vai! Dai, 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 dai! Wow! Prova a... No, ma è andato, eh! È andato ancora un bel pezzo, eh! Comunque è uscito quasi tutto, eh! È fuori quasi tutto, ormai! oh ti devi mettere alla prova ti devi mettere alla prova sennò quando sei